Inter, pronto il rinnovo per il Nerazzurro. C'è l'accordo tra calciatore e società. Dopo aver conquistato la finalissima di Champions League di Istanbul, l'Inter pensa anche a strutturare la rosa in vista della prossima stagione. I Nerazzurri hanno pronto il rinnovo per un calciatore, effettivo caposaldo della squadra guidata da Simone Inzaghi. Si tratta di Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro classe 99 è pronto a legarsi ulteriormente al club e a proseguire con la maglia dell'Inter per altre stagioni. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c'è già un accordo verbale tra la società e il difensore. Manca quindi solo l'ufficialità. Come riportato sempre dalla Rosea, Bastoni dovrebbe legarsi all'Inter con un contratto fino al 2027 o addirittura al 2028. Il suo stipendio dovrebbe poi aggerarsi intorno ai 5,5 milioni l'anno, più bonus. Scelta giusta secondo voi per il club nerazzurro?